E' stato presentato ieri pomeriggio il cartellone degli eventi natalizi a Ponte Cagnano-Faiano. Il sindaco Giuseppe Lanzara ha illustrato presso i locali dell'ex tabacchificio Centola l'elenco delle iniziative che animeranno le strade principali e periferiche dal 7 dicembre al 6 gennaio. Fra queste le notti dei Rasunia, il 7, 8 e 9 dicembre presso Piazzetta Isonso, Faville Festival in programma il 21, 22 e 23 dicembre nella zona centrale della città, il Festival del Calzoncello il 15 dicembre presso l'ex tabacchificio Centola e circoliamo artisti e giochi di strada per i più piccoli il 28 dicembre a Faiano. A chiudere il cerchio l'evento organizzato dal centro commerciale naturale denominato Befana in volo che si terrà il 5 e 6 gennaio nelle piazze Sabato e Risorgimento.